Benvenuti al meteo. Domenica autunnale, al nord-est calo termico, ma tempo in prevalenza buono. Il dettaglio del 27 settembre. Sul Veneto condizioni generalmente asciutte, sarà per lo più soleggiato, con poche nubi a carattere sparso. Tuttavia, nelle ore pomeridiane e serali, potrebbe peggiorare con qualche occasionale piovasco a macchia di leopardo. Temperature in ulteriore lieve diminuzione, minime tra i 3 e gli 11 gradi, valori massimi tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con più sole, col passare delle ore deciso peggioramento, rovesci e temporali anche intensi a partire dalla serata. Temperature minime fino a 11 gradi, massime sui 18-19. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, il tempo si mantiene asciutto e anche ampiamente soleggiato per tutta la giornata. Temperature minime sui 4 gradi, massime fino a 16-17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Grazie a tutti.